Ciao lettrici e lettori, bentornati e bentornate su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi sono qua per fare un video un po' a caso, è super strano però sarà anche breve immagino però quello che insomma sono qui per dirvi è che in qualche modo volevo fare un punto che dovevo fare mesi fa per il canale dirvi un po' come stanno le cose perché sono stata molto assente in questi mesi, ci tenevo a farlo soprattutto perché tanti di voi mi scrivono, mi commentano, hanno bisogno di video nuovi a me dispiace non essere molto presente come spesso è stato però insomma adesso vi racconto tutto pian piano questo è un Get Ready With Me quindi sarà un video super chiacchiericcio, super rilassato, questo è il risultato finale adesso torniamo con un Barry Wind indietro e insomma volevo fare un po' il punto perché insomma trovo anche giusto visto che questi mesi sono stata molto poco insieme a voi raccontarvi cosa è successo, nulla di grave ovviamente però insomma ci sono tante cose che mi piacerebbe mettere in chiaro anche perché quello che vorrei fare è prendermi un po' i miei tempi per anche riportarvi dei nuovi video ovviamente questo è un video che in qualche modo racconterà qualcosa soprattutto a chi è qua da tempo, chi ha seguito insomma un po' tutto il percorso di Miss Fiction Books come canale, come community però insomma se siete qua per la prima volta benvenuti e benvenute mi raccomando iscrivetevi al canale e ricordatevi anche di lasciare un like che in qualche modo cercherà di riportare questo canale ormai morto per il pubblico da casa un attimino nell'onda dell'algoritmo perché ahimè dipendiamo anche tanto da quello niente io direi che è arrivato il momento di fare qualche chiacchierino insieme torniamo indietro così io mi preparo per il prossimo video allora siamo tornati ovviamente all'inizio del video ok prenderò un po' la mano con calma eh rega perché è un po' che non sto in video quindi abbiate anche pazienza quindi niente io inizio a prepararmi così sono anche pronta per il video di dopo da girare dopo che è poi la ciccia quello che potrebbe interessarvi a livello tematico e intanto vi racconto un pochino cosa è successo in questi mesi come sono andati perché non sono stata così presente allora innanzitutto vi suggerisco tantissimo di seguirmi su instagram perché è l'unico spazio dove sono effettivamente sempre attiva bene o male quantomeno nelle stories e quindi insomma prima cosa che vi suggerisco è quello se volete rimanere un po' in contatto anche quando manco da youtube e allora innanzitutto spero di riuscire anche a fare le cose come vanno fatte più o meno voi non replicate nulla di ciò che io faccio a casa perché sono una disgraziata allora visto che non ho mai voglia di fondi sto usando la bb cream della saponaria anche perché un po' di sole l'ho preso anche io quindi effettivamente un pochino mi sono oscurita comunque allora in questi mesi cosa è successo perché quest'anno mi vedete estremamente meno attiva che tutti gli altri anni su il canale innanzitutto il lavoro quest'anno è un anno parecchio intenso ho tante cose in più rispetto al solito e soprattutto sto facendo cose come avrete visto legate anche all'editoria quindi sto traducendo, sto scrivendo sto insomma lavorando a queste attività qua che chiaramente mi portano via moltissimo tempo libero poi libero, moltissimo tempo io sono comunque una freelancer quindi per me è parte del lavoro e quest'anno ci sono stati un po' di incastri che mi hanno veramente fatto andare un po' in crisi dalla fine dell'anno scorso come un po' vi raccontavo nei video di inizio anno fino ad ora diciamo che è stato un po' tutto un caos a livello lavorativo ho faticato io a organizzarmi a riposarmi a trovare dei momenti in cui non diventare completamente pazza fondamentalmente e quindi insomma devo dire che il motivo principale per cui non mi vedete così spesso è banalmente che sto lavorando un po' come sempre quando io sparisco di solito perché ho periodi intensi ci sono state diverse cose che insomma si sono incastrate nei primi mesi dell'anno a partire ovviamente dalla traduzione delle figlie di Is che è uscito quindi non è che l'ho tradotto inizio anno però insomma è uscito quindi abbiamo lavorato un pochino alla promozione poi c'è stata la prefazione insieme a Nicoletta Vallorani per la riedizione dei vent'anni di Eva ci saranno cose anche nella seconda metà dell'anno che non vi posso ovviamente assolutamente dire però insomma ci sono tante cose in ballo e questa cosa mi ha un po' messa ovviamente in crisi peraltro quando un pochino pensavo di essermi un attimo tranquillizzata ho partecipato a un altro progetto che in realtà è un progetto video del Covo Club di Bologna che per me è una seconda casa qui e abbiamo scritto diretto, girato una serie di interviste ad artisti bolognesi dei dintorni eccetera quindi è stato bellissimo, super divertente e quindi anche quello mi ha portato via anche le ultime risorse di tempo libero e poi a maggio diciamo è reiniziato tutto il bollirone della stagione di matrimoni comunque se io continuo ad andare così non farò niente in questo video, mi preparerò mai no pipì sono vestita di nero tu non osare avvicinarti perché pipì hai i pelli malefici comunque quindi insomma adesso tra l'altro sono nel bel mezzo della stagione dei matrimoni questo è il mio unico weekend libero e per chi mi segue su Instagram saprà anche che insomma sono state settimane fisicamente anche molte intense cioè il mio corpo a un certo punto è anche un po' ceduto perché effettivamente ho veramente troppo poco tempo per riuscire a riposarmi e lavoro continuamente e questa cosa non fa bene non fatelo cioè voi che potete se potete non lavorate fino a uccidervi e stremarvi fisicamente quindi diciamo che fondamentalmente se non mi avete visto così spesso in questi canali il motivo principale rimane unicamente il lavoro poi ci sono un'altra serie di motivi che magari vi racconto qua e insomma poi dopo vorrei che non venissero presi neanche con troppa pesantezza perché in realtà non la vivo così male la questione in questo momento però diciamo che un altro dei motivi che mi hanno anche un po' vista allontanarmi da YouTube ma non solo insomma un pochino ne ho parlato di nuovo soprattutto su Instagram perché è il posto dove sono proprio attiva quotidianamente grazie alle stories è un po' anche una questione di carico mentale mi sono davvero resa conto che quest'anno ho faticato moltissimo rispetto ad altri anni a gestire diciamo un po' la negatività online ovviamente potete immaginare quanto facendo una rubrica femminista io mi confronti quotidianamente settimanalmente con chiamiamole opinioni quando sono opinioni ma molto spesso non sono opinioni sono una serie di insulti e diciamo che mentre quasi sempre ho avuto cioè tendo a o ignorare o a trollare perché a un certo punto diventa anche un meccanismo di difesa quest'anno ho iniziato a sentire soprattutto nei primi mesi fortissima ansia che non mi capitava da tanto tempo è vero anche che veniamo da un anno come il 2020 quindi diciamo che chiaramente non ha aiutato tutta una serie di peggioramento a livello psicologico mio come immagino di tante altre persone e quindi insomma diciamo che anche questa parte qua che negli anni è stata diciamo parte dell'attività perché insomma esporsi online sui social metterci il corpo metterci la faccia quasi inevitabilmente ti porta purtroppo ovviamente non dico che sia una parte necessaria del gioco ma è una parte che purtroppo è inevitabile a confrontarti con esperienze molto negative dal punto di vista del confronto con le altre persone c'è stato un periodo dove penso mi arrivassero un augurio di o di morte almeno una volta al giorno e ve lo giuro che per quanto io mi ritengo una persona che rimbalza moltissimo queste cose a livello psicologico ho risentito molto e quindi ho deciso anche un pochino di prendermi uno spazio dove cercare di tornare quando non ero abbastanza pronta a respingere del tutto queste dinamiche sono veramente magari da fuori sembrano cose abbastanza sciocche nel senso che si sa che sono persone a cui non dare importanza è tutto ed è vero ed è quello che ho sempre pensato anch'io però è vero anche che se psicologicamente c'è un momento di difficoltà o comunque c'è un momento in cui si è più esposti più deboli queste cose ti cambiano la giornata cioè mi sono resa conto che per alcuni giorni avevo proprio livelli di ansia alti che non dipendevano solamente da magari ciò che succedeva o le mie preoccupazioni della vita vera chiamiamola vita vera ma anche molto spesso ok devo uscire questo video vorrei girare questa cosa qua ma non ho voglia di confrontarmi con le risposte la negatività eccetera e mentre è sempre stata una cosa di cui non mi è mai fregato molto cioè ho notato proprio che quest'anno avevo bisogno un attimo di stare tranquilla anche io ogni tanto anche se non sembra ho bisogno di stare un po' tranquilla e quindi diciamo che non vorrei che passasse l'idea che sono stata lontana perché ricevo negatività e non ho voglia di confrontarmi con queste cose le trovo parte purtroppo del processo ma non è un problema però devo dire che avevo bisogno un attimo mentalmente di riequilibrare tutti questi aspetti e quindi insomma volevo tornare in un momento in cui so che posso esserci so che posso essere presente molto di più e soprattutto dove io sto anche abbastanza bene penso sia anche legittimo una cosa normale che non penso turberà nessuno di voi ne vi farà sentire sani come richiesta penso che sia abbastanza comprensibile e quindi niente fondamentalmente diciamo che i motivi per cui non mi avete visto sono soprattutto questi quindi nulla di strano di assurdo di emblematico avevo bisogno proprio anche io un attimo di riequilibrarmi come può succedere l'unica cosa che mi dispiace tantissimo è che ho tante idee tante cose che voglio fare tante cioè tanti argomenti di cui vorrei parlarvi e il tempo è ovviamente poco quindi anche io ho dovuto un attimo anche fare una riflessione su come cosa e quanto posso gestire effettivamente il canale gestire anche l'interazione sul canale trovare lo spazio per registrare senza diventare matte effettivamente mi sono reso a conto che l'anno scorso specialmente ma diciamo che parte dal 2019 all'anno scorso e ho avuto dei ritmi allucinanti perché proprio settimana intensissima magari uno dei due giorni o sabato domenica lavoravo comunque e in più ci incastravo anche video e montaggio ed era praticamente diventato una routine talmente serrata che la volta in cui non riuscivo poi ovviamente a seguirla mi sentivo anche in colpa perché stavo disattendendo qualche aspettativa però poi alla fine sono io che devo fare i conti con il non riposarmi sono io che non posso non riposarmi e non posso non pretendere da me sempre troppe cose lo dico a fronte di grandissima consapevolezza nel fatto che devo liberarmi di questa sensazione che io stia facendo sempre comunque troppo poco comunque non è una sensazione della quale ci si libera facilmente e quindi anche da questo punto di vista qui diciamo che per mesi mi sono detto ok torno regolarmente nel momento in cui so che posso girare un video a settimana almeno o due video a settimana e poi alla fine non so bene dirvi perché per come eccetera però ho iniziato a pensare ma alla fine non è che io devo essere qua sempre presente se no succede qualcosa può essere che in alcuni mesi io non sia presente o non ci sia che va bene lo stesso quindi anche da questo punto di vista qua diciamo mi sono liberata anche un po' della sensazione di dover per forza essere una brava creatrice costante che deve per forza essere presente solo quando può essere presente sempre e non in maniera anche un po' randomica alle volte e quindi ecco diciamo che questo mio ritorno in questo momento è anche un po' per parlare anche di questo aspetto cioè di come sarà la programmazione d'ora in poi io almeno per questo periodo e questi mesi sicuramente e sarà una programmazione frammentaria quindi io purtroppo non vi posso garantire di essere qua sempre tutte le settimane con un video argomentato con tutti i miei consigli con tutte le cose che voglio raccontarvi dirvi dei libri dei quali voglio parlarvi dei feminist super mega agguerriti eccetera ma comunque in qualche modo sarò qua quindi magari non sarà più un video a settimana due video a settimana tre video a settimana come quando nei momenti d'oro ma potrebbe essere che magari sono un po' meno un po' meno regolari ecco però ci sono sempre insomma e quindi anche questa consapevolezza che ok posso stare qui senza diventare matta per me è una fonte importante di tranquillità lo so che magari il lato non so come dire dal punto di vista delle performance questa cosa potrebbe chiaramente essere abbastanza negativa per me o non fare in modo che molti di voi non siano sempre qui questa cosa mi dispiacerebbe ovviamente però allo stesso tempo è più sostenibile per me e quindi alla fine insomma sapete che io non sono qua né per i numeri ma soprattutto per confrontarmi chiacchierare parlare e trovare insieme anche il modo in cui ci si confronta nel modo migliore quindi davvero sto prendendo anche da tanti punti di vista in maniera tranquilla cioè nel senso so che purtroppo ci saranno degli abbandoni ci saranno persone che si infastidiranno anche di questa mancanza di costanza però quello che posso dirvi è che so che per me è la cosa migliore quindi insomma il bilanciamento è sempre tra ciò che vorrei fare le mie aspirazioni e anche ciò che posso effettivamente fare quindi niente quindi volevo un po' raccontarvelo ed essere anche abbastanza trasparente in questo in questo momento visto che insomma tanto questo è il mio canale come dico sempre è un po' il mio regno però è anche uno spazio dove ci siete anche voi e tanto quanto me io considero questo il mio canale tanto quanto il vostro perché senza la community dove si va dove andremmo ok da nessuna parte io ci credo tantissimo e quindi niente fondamentalmente questo è un po' anche quello che succederà poi non so magari ci sarà un momento più avanti in cui io riuscirò tranquillamente a seguire tutto a postare regolarmente magari anche nelle prossime settimane riuscirò sempre a ritagliarmi il tempo per almeno girare un video e quindi magari insomma io sono sempre negativa però c'è anche il caso che non sia così tragica la situazione ho molto lavoro e quindi questo non mi porta ad esserlo così tanto ma se riesco un po' a incastrare tutto effettivamente ho tanti video che devo finire di scrivere che ho in ballo da mesi tanti video che ho finito e non vedo l'ora di registrare e quindi insomma vediamo ecco non voglio fare troppi pronostici ne voglio farvi promesse perché comunque insomma avevo detto che ve ne avrei parlato volevo fare un video un po' anche breve leggero non voglio fare i miei soliti pipponi per dirvi una cosa abbastanza banale come vedremo come va non so se è la luce in parte lo è vabbè sono i drammi del make up in video ok tra l'altro io non so cosa sto facendo cioè non avevo piani quindi sto andando un po' a caso ho preso l'intergalactic di Jolie e quindi che altro che altro e quindi ripeto se invece vogliate degli update giornalieri e soprattutto dei pipponi giornalieri ve lo premetto perché io dico sempre che è meglio scappare dal mio canale instagram dal mio account instagram però vi dico che lì sono effettivamente molto attiva però vi succherete un sacco di pipponi giornalieri pesantissimi su femminismo anticapitalismo antisistema e insomma inclusività parità e questioni di questo tipo non sarà diciamo semplice piacevole però insomma vabbè qua stiamo già facendo il circo vedo che cioè non mi trucco da un sacco così tanto però vedo che la tendenza al circo non è passata a proposito di circo questo mese è uscita la nuova edizione del circo della notte e visto che insomma sapete che è un super titolo l'abbiamo letto per un gruppo di lettura per il Mase Fiction Book Club direi quasi due anni fa abbiamo finito le copie della vecchia edizione quindi se non l'avete letto voi lo sapete è uno dei miei libri preferiti lo so che ne parlo continuamente però insomma se non avete ancora letto il circo della notte leggete il circo della notte ora c'è pure la nuova edizione quindi fatelo fatelo e niente direi che fondamentalmente il grosso che dovevo dirvi era questo intanto metto tipo dei punti luce con la mano a caso sto facendo completamente tutto a caso in questo momento e direi che più o meno qua ci siamo adesso sistemo un attimo metto l'eyeliner off camera e poi ci salutiamo verso la fine ho messo l'eyeliner ma poi mi sono scordata di fare di mettere un attimo un blush perché non li metto da una vita queste robe perché c'è la mascherina già la mia pelle fa schifo con la mascherina quindi non ho neanche più idea di come funzionano queste robe tra l'altro avevo preso questo che è un blush in crema perché d'estate il polvere è un po' pesante boh direi che potremmo esserci torno a vedere perché mi rimetto gli occhiali qua ovviamente capello lurido per quello che ho il turbante in questo momento e niente allora volevo fare giusto un video dire cap cioè ridarvi un po' il benvenuto riraccontarvi perché ero sparita perché insomma mi siete mancati in questi mesi ed è stato anche molto bello devo dire vedere da un sacco di voi lo dico davvero con grande sincerità non lo dico perché lo devo dire però vedere molto spesso che ho sotto i video vecchi c'erano moltissime persone che mi iscrivevano me lo riguardo perché mi manchi Tiffany dove sei abbiamo bisogno di i tuoi video siete stati davvero troppo troppo dove c'è delle stelle davvero super care e quindi io vi ringrazio un sacco anche su Instagram avete scritto tantissimo di continuo quindi insomma quello che io posso fare è cercare di dirvi che dobbiamo abbassare le aspettative in quello che succederà in questi mesi però sicuramente quello che voglio fare è cercare piano piano di riprendere con i contenuti quello che sarà sarà anche perché poi ci avviamo ad agosto e ad agosto vi giuro per due settimane io cercherò di riposarmi il più possibile poi in realtà non sono due settimane sono circa dieci giorni e poi per riprendere settembre che sarà bello intenso perché tra matrimoni e altri progetti sarà un mese molto 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 denso quindi niente io davvero ci tenevo un sacco a tornare a risalutarvi e a dirvi che sicuramente nelle prossime settimane nei prossimi giorni usciranno dei video se sono stata molto brava ne usciranno addirittura due così facciamo un po' un recap di tutte le letture fatte fino adesso perché immagino che non si sappia niente di ciò che ho letto è stato un anno strano e ho letto pochissimo però volevo raccontarvi un po' quello che ho spulciato e in più un altro che era previsto ovviamente per il Pride Month ma uscirà in questi giorni e niente io davvero vi ringrazio e spero che insomma non siate scappati e scappate da questo canale mi farebbe tanto piacere ritrovarvi direi che ci sentiamo giù nei commenti insomma per eventualità varie e per il resto direi che ci vediamo al prossimo video ciao